Il 23enne britannico Matthew Walls, campione olimpico a Tokyo Dome 21 su pista nel Omnium, conquista la sua seconda vittoria da professionista su strada, entrambe ottenute in questa stagione, dopo una tappa al Giro di Norvegia conquista appunto la Il Gran Piemonte, una corsa del calendario autunnale italiano, una classica italiana appunto di fine stagione, corsa in preparazione al Giro di Lombardia. Una prova, a differenza delle altre corse che abbiamo visto negli ultimi giorni, la Milano-Torino, il Giro delle Miglia, la Tre Valli-Varesine, più adatta alle ruote veloci e corridori appunto velocisti che si sono giocati la volata nel centro storico di Borgosesia. Una corsa di 168 km con partenza da Rocca Canavese, sostanzialmente pianeggiante, tranne i primi chilometri dove era presente qualche salitella che ha favorito appunto la fuga di giornata. Fuga di giornata di buona qualità con la presenza di ottimi corridori come Schelmos Jensen, Marc Soler, Boaro e Moniquet che sono stati ripresi attorno ai 25 km alla conclusione. Poco dopo, in una curva, il primo colpo di scena con la caduta del giovane Olaf Koi, classe 2001, giovanissimo, della Jambovisma, ma già molto molto forte, uno dei migliori prospetti per quanto riguarda appunto le volate. Bronze tra l'altro a Lovanio, ai mondiali Andre 23, vinti dal nostro Filippo Baroncini, cade appunto in una curva, in una rotonda, riesce comunque a rimettersi in sella e a rientrare in gruppo e poi appunto a disputare la volata finale. Da segnalare tra l'altro che questa gara è stata l'ultima per tre corridori italiani, tre velocisti come appunto Fabio Sabatini, Matteo Pelucchi e Manuel Belletti, che dopo questa corsa decidono di appendere la bici al chiodo e di dire addio alla loro carriera appunto da professionisti. Per quanto riguarda appunto la volata finale, molto confusionaria perché a circa 800 metri da conclusione c'era un restringimento prima di una rotonda che ha causato molto scompiglio, alcuni corridori hanno anche rischiato di cadere, tra cui Filippo Ganna che è riuscito a allargarsi appunto all'ultimo evitando il patatrack che si sarebbe potuto causare, ma molti velocisti, a partire da Elia Viviani ma anche Ethan Hater, sono rimasti intruppati e hanno dovuto dire addio alle loro possibilità di disputare una buona volata. Si è arrivati appunto con una situazione che vedeva in testa la Jumbo Visma con Edoardo Affini a tirare ovviamente per Olaf Koi, per i compagni di squadra, con anche Nizzolo nelle prime posizioni. Ma lanciare la volata è da dietro Maximiliano Ricese, uno dei migliori lead out al mondo, che però non aveva propriamente a ruota il capitano Matteo Trentin, ma bensì Matthew Walls. Matthew Walls che è stato molto scaltro a prendere la ruota dell'argentino, a frapporsi appunto tra Trentin e l'argentino. Qua si sono viste appunto le sue qualità su pista, dove entrare negli spazi minimi è all'ordine del giorno e appunto è riuscito a sfruttare l'aumento di velocità portato dal lead out della White Team Emirates per lanciare la propria volata e per non essere ripreso da nessuno, perché appunto all'arrivo Matthew Walls riesce a conquistare la vittoria davanti a Giacomo Nizzolo che tenta una rimonta nel finale ma non gli riesce per circa mezza bicicletta. Terza posizione per Olaf Koi che nonostante la caduta è riuscito a disputare la volata con un ottimo terzo posto. Quarta posizione per Matteo Trentin. Quinta posizione per l'argento della prova Under 23 di Lovagno, l'Eritreo Binian Ghirmai, un altro dei grandi talenti diciamo per il futuro, probabilmente il corridore africano più di talento attualmente in circolazione. Stessa posizione per Jacubo Maresco della Vini Zabu, settima posizione per Minali, ottava per Declane, nona per Capio, completa la top 10. In decima posizione il corridore della lotta sudal di Busta Garolfo, Stefano Oldani. Dunque vittoria un po' sorpresa per Matthew Walsh che non partiva proprio con i grandi favori del pronostico, diciamo che i favoriti sulla carta erano Viviani, Nizzolo, Koi e Ather. Però appunto una grandissima volata di Matthew Walsh è stato molto scaltro nel finale, si sono viste tutte le sue qualità da pistarde di altissimo livello, altrimenti non avrebbe vinto un oro olimpico e appunto sfruttando questi suoi doti è riuscito praticamente a fare una volata perfetta e a finalizzare conquistando appunto questa vittoria che molto probabilmente è la più importante della sua carriera per quanto riguarda ovviamente il settore strada. Comunque ragazzi direi che per questo è tutto, mi piace chiaramente e mi piace iscrivervi, se non è accesso alla nostra pagina Instagram, noi ci vediamo al prossimo video.